I Vat 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 proseguono con il Summer Tour, vie, riscuotendo grande successo ed entusiasmo tra le tante tappe da segnare in agenda a quella di questa sera, quando la band irpina farà tappa alla prima edizione di Verteia Mater. L'appuntamento è sull'alto piano di Verteia con il concerto dei Vat Vat Vat, che con le loro canzoni e le loro musiche daranno il via alla quarta serata di concerti live del ricco programma di Verteia Mater. Quale viaggio nella musica e nel gusto che attraverso il potere aggregante e attrattivo della musica di qualità sta esponendo al grande pubblico quelli che sono i punti di forza della nostra terra, l'agroalimentare, il territorio, l'ecologia, le risorse, la musica per appunto. A seguire sul palco salirà il gruppo dello Stato Sociale. I Vat Vat Vat, ovvero Giovanni D'Agostino Frontman, Giuseppe Solito Sinte e Andrea Solito Batteria, a Verteia Mater seguiranno i brani raccolti nell'album Viet, da audace come l'amore a comunicare, fino a Viet, il brano che dà il titolo all'album. Quale invito ad oltrepassare con vigore il convenzionalismo di questi tempi, la costante ricerca di nuovi percorsi, nuove strade, nuove vie e non solo. Ma il Summer Tour Vie non finisce qui. Il 3 agosto i Vat 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 si esibiranno a Frigento, al People Involment Festival, per poi proseguire con altre tappe tra agosto e settembre. Insomma, tantissime date importanti per un'intensa e emozionante estate con i Vat Vat Vat. Insomma, tantissime date importanti per un'intensa e emozionante estate con i Vat.